Notte, Bolciano a due, Verona a quattro, Trieste a due, Venezia a tre. E Roma? Roma a un'idea nove, Roma a Fiumicino a sette. Grazie. Che forte! Signor, questo modello è l'ideale per una comunità, ci si può conservare anche un quarto di bue. Signor, questo modello è l'ideale per una comunità, ci si può conservare anche un quarto di bue.